I comuni costieri di Pineto e Roseto hanno approvato delle delibere che vanno a confermare l'esonero del pagamento della TOSAP, oltre alla possibilità di richiedere ulteriori spazi per permettere a bar, pub, pizzerie e ristoranti di aggiungere i tavoli all'aperto. L'obiettivo è quello di dare un sostegno concreto e immediato alle esigenze delle attività di ristorazione, già fortemente danneggiate dalla pandemia. Abbiamo pubblicato il modulo online per inoltrare richiesta agli uffici competenti per dare la possibilità a tutte quelle attività che operano nel settore della ristorazione e dell'alimentare di poter usufruire di un ulteriore spazio all'aperto. Per chi è già possessore di un'occupazione di suolo pubblico può richiederne anche il raddoppio fino ad un massimo di 120 metri quadrati. Per chi invece non ne ha e lo richiede per la prima volta si parte da una superficie minima di 9 metri quadrati fino ad un massimo di 120 metri che comunque deve essere uguale almeno alla superficie interna di somministrazione e vendita. Quindi diciamo un ulteriore aiuto per le attività che si trovano a dover riaprire e quindi possono ripartire con una possibilità in più per ospitare i clienti che da tanto tempo ormai sono stati costretti a rimanere a casa. Dal punto di vista delle manifestazioni il Comune di Roseto come si sta muovendo? Il Comune di Roseto intanto sta programmandole un calendario estivo, questo da poi verificare con l'orario del coprifuoco perché se rimane alle 22, ma spero che venga prorogato, non ci sarà possibilità di fare manifestazioni serali come per esempio Roseto Opera prima perché pensare di proiettare un film all'aperto nel tardo pomeriggio è impossibile perché oltre alla mancata affluenza ci sono problemi anche di luce, quindi diciamo noi ci prepariamo e poi attendiamo le indicazioni da parte del Governo.